Alessio è imbarazzante coordinazione motoria meno 2 Sniper Maggot ti dice Alessio i pollici opponibili i pollici opponibili Pierpa ti consiglio di farlo tu Alessio non è l'unico che può morire sul tutorial perchè abbiamo qui in questa stanza in questo momento un altro esponente di persona che sa morire nei tutorial e non è da tutti e non è da tutti prendo un po' di rincorsa io non so anche che stai facendo e sei l'imbarazzo dell'umai ti sta a rende conto da sola ma che cazzo dici vai che sto andando ai 2000 via salto a caso sto precipitando cioè io veramente proprio ma sono nello stesso posto dove devo andare c'è stanno le frecce Alessio quindi mi devo fiondare giù lì Alessio girati no mi devo fiondare qua giù ma no no muori perchè non ti fidi e qui è tutto chiuso secondo me non era previsto che un giocatore facesse una cosa del genere secondo me secondo me Techland ci sta guardando ha detto porca puttana ho lasciato quel buco e non credeva è la scala per ritorno al punto di prima tra l'altro non so come dirtelo Alessio torna indietro torna indietro guardala fermati respira R1 spingi R1 lo sto spingendo guardala L è quello Alessio R1 io veramente ma sono senza parole ma non lo so ma ti prego fatti assommare qualcuno di loro mentre sviluppano io voglio vedere che ti fanno il testing sopra il gioco proprio cioè io non lo so è incredibile proprio guarda sopra vedi l'asse di legno devi prendere a sinistra sinistra guarda su bravo eccolo lì prendi quella adesso girati e cammina girati però guarda hai visto vedi L e R1 è la cosa più frustrante dell'universo lo sai mi viene mi viene il male dentro mi senti quando vedi una cosa che ti viene il male dentro hai idea allora ti ritorno indietro e quella cosa lì mi viene dentro ho il fastidio dentro ok ha fatto pure hai craftato si dovrei fare una molotov non lo sostengo la faccio una molotov si si molotov fa però devi devi velocizzare eh lo so tu devi 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 rompere il cazzo ma secondo te scusami secondo me allora io quello che lo devo usare tu lo devi ammazzare non lo posso ammazzare perché siete volte me come cazzo faccio ma non posso dai ma è ovvio che lo devi ammazzare ma no ma non lo posso ammazzare faccio una cosa più intelligente lancio l'hai petardi così non mi vede vai 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 adesso vai 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 con la x ore sei un po' stretto sei un po' stretto io mi girerei magari chissà 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 potrebbe arrivare tutto di corto ma guarda che sei proprio un coglione di merda eh ma porti proprio sfiga porti di mortacci tua ti piace qualcosa proprio mi hai fatto venire un infarto bambini che ci guardate da casa e non ripetete le frasi ma guarda che sei incredibile sei mi hai attaccato quella cosa lo sapevo ma non m'ha preso mi hai attaccato quella cosa ma come fa a prendermi ma sto lontano un chilometro mi hai attaccato questa cosa devi schivare con la schivata cos'è la schivata cioè come monotov tiragli uno monotov prova tiragli ma guarda che sei incredibile ma prova tiragliela sei veramente non so se sei più incredibile o più idiota prova ok adesso va ad ammazzare va là va là è morto con la monotov cioè non serve a un cazzo non serve a cazzo è morto con la monotov veramente proprio io sono imbarazzato comunque le bombole a terra fanno controlli le bombole a terra giusto per capire quali sono le dinamiche fammi intanto prendere che abbiamo a disposizione per la prossima volta dicono di usare il tonfa giusto quello perché tanto con te è come giocare con i deficienti quindi non serve un cazzo ma non l'ho detto io sono stati loro si sono anche arrabbiati anche di l'uno con l'altro vai alla bombola e dai una mazzetta alla bombola così esplodo no non esplodi Alessio no ti giuro allora io giuro su dio ma non te lo dico se io do il colpo alla bombola e muoio e dobbiamo ripartire ti do il pad ci giochi io intanto ti sputo addosso mentre ci giochi facciamo sta cosa allora qui guarda io sto facendo guarda hanno detto che la bombola giochi te io ti sputo addosso hanno detto che la bombola sei pronto se colpisci la bombola si infiamma dicono ma guarda ti faccio vedere pronto vai scappa bello eh però si sono svegliati tutti tipo eh che c'è Grazie a tutti.